Il prossimo pezzo è una cover di un gruppo molto famoso nel Chiarese, il Prestronto si chiamano, e parla di un prete dedito molto frequentemente all'auterotismo. Purtroppo questo prete fa una brutta fine e viene ritrovato stecchito all'interno di una cella. Il nome di questo prete è Fraccafella. Questa è la storia di un sacerdote che proprio come noi amava molto i pornazi. L'auterotismo sotto le sue lenzuola, gli altri frati un po' invidiosi gli davano sopra noi. Io mi chiamo Fraccafella, della cella o Verone, tutto il giorno a cazzo in aria, ma che effetto che mi fa. Chiusa a chiave nella cella, penserò alla sorella, ma lei pensa al suo signore, la mia mano scorre giù. Sono Fraccafella, chiuso nella cella, pensa alla sorella, il pene si ribella. E quando lui entrava solo nella cella, tutti i frati gli gridavano, bravo Fraccafella. Ma io che lo conosco, lo voglio discolpare, e con questa canzone io lo farò parlare. Sono Fraccafella, chiuso nella cella, pensa alla sorella, il pene si ribella. Sono Fraccafella, sono Fraccafella, sono Fraccafella, sono Fraccafella, chiudo nella cella, penso alla sorella, il pene si ribella. Se confesso i peccati che le signore sessualmente, come tono proprio non so resistere nel confessionale. E il pene si ribella, se si ribella. Questa era la storia di fraccappella che chiuso nella cella lo trovarono stecchito il giorno dopo con un overdose Ti sburrà nelle vene, hai capito? Questa era la storia di fraccappella? Oh lord, half Mercury now people! Oh, Ho'emsendasci in the highest, you know, ma sayhamie! Oh the frogs! Oh the trees! Oh the birds! Oh the Francesca! Yes people! We're to tell you about the fraccapella! Allora, 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 allora venga, hozaki in the highest, ladies and gentlemen, Why, I only remember last week When I just came in To see that famous fromaggio Right there in the studio The frogs The birds And the trees Hey Ladies and gentlemen Back to the show Oh And with the angel Of San Fermatio With the birds Yes The birds Eight Eight Four 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 Grazie a tutti